Ora si registrerà la conferenza. Per quanto riguarda i bandi, le opportunità per le imprese giovanili e femminili e do la parola a Adriano Savoini e lasciamo la parola all'assessore ovviamente per un saluto e iniziamo il webinar. Bene, buon pomeriggio a tutti. Come al solito faccio un po' l'organizzatore e direi che iniziamo subito invitando l'assessore Cucci che è l'assessore politica europea e attività produttive del Comune di Pordenone a fare una breve introduzione e un indirizzo di saluto. Prego assessore. Grazie dottore Savoini, buonasera a tutti e a tutte. Io ringrazio i presenti e i partecipanti collegati via web a questo quarto appuntamento di PMI Smart Desk, opportunità in vitalia come è stato preannunciato appunto dalla dottoressa Anna Ulian, imprenditoria giovanile e femminile, incontro che possiamo dire apre una nuova fase relativamente ai temi trattati. Se infatti fino ad ora abbiamo stato approfondito il tema dell'innovazione, quale motore della ripresa, da oggi ci addentriamo nelle tematiche relative a come sostenere l'innovazione, con quali risorsi e con quali metodologie riuscire ad ottenerle. Questo incontro infatti ci parlerà di opportunità sia come mezzi finanziari e qui il pensiero va alla Next Generation U, ma anche alla nuova programmazione 2021-2027 dell'Unione Europea, per poi entrare ovviamente nel concreto con i bandi in vitalia e quindi come, diciamo, bandi come intesi quale forza lavoro e quindi guardando ai giovani e alle donne. I relatori sicuramente ci sapranno interessare, attrarre con le ingenti risorse che a breve saranno disponibili. Mi preme anche sottolineare al riguardo come personalmente, ma penso che questo sia condivisibile da tutti, queste risorse possono essere in primis risorse che debbono aiutare i giovani e le donne a fare impresa. Guardare infatti alla ripresa, alla ripartenza, senza considerare il grandissimo apporto che le nuove generazioni e anche il mondo femminile, lo sottolineo, possono dare, significerebbe affrontare il tema a metà. Queste categorie, infatti spesso trascurate nel valore e nelle competenze, rievidenzio la parte soprattutto femminile, saranno sicuramente, indubbiamente fondamentali per il rilancio della nostra economia. Quindi io chiudo questo breve incontro con l'auspicio che questi incontri, questi webinar, siano momenti che possano fornire gli stimoli giusti per affrontare un tema tanto inderogabile quanto importantissimo per il futuro di tutti noi. Io nell'augurare buon lavoro a tutti, ringrazio tutti i presenti e comunico che questa sera per un imprevisto, sopraggiunto impegno non mi potrò trattenere a lungo. Quindi colgo l'occasione per ringraziare i relatori e le relatrici e anche ci tengo la dottoressa Maria Fantinel che di Ematec, azienda start-up insediata presso il polo tecnologico, che ha accolto il nostro invito a partecipare a questo incontro. Quindi grazie a tutti, buon lavoro e a presto. Grazie Assessore, dunque entriamo nel vivo con una rapidissima presentazione del panel di questo pomeriggio. Quindi abbiamo con noi il dottor Tommaso Bernardini, project manager presso Friuli Innovazione, Stefano Puissa che avete già incontrato nelle precedenti edizioni, il managing director di ITB associati e l'ingegnere elettronico Maria Fantinel di Ematec, alla quale poi faremo anche delle domande in tema elettronica, in tema femminile, in tema imprenditoria. Penso che sarà una chiacchierata molto interessante. Bene, lascio quindi la parola al dottor Bernardini per la sua presentazione e anche una sua brevissima introduzione di se stesso. Prego. Sì, grazie e buon pomeriggio a tutti. Ringrazio il comune di Pordenone per l'opportunità e l'invito di essere presenti qui oggi. Porto i saluti del nostro presidente Daniele Cozzi. Vado ora a condividere una presentazione che ho preparato. Ok. Ok. Dovreste vederla in modalità schermo pieno, se è corretto. Allora, appunto, io sono Tommaso Bernardini, lavoro a Frio Innovazione ormai dal 2006, quindi mi occupo di un po' tutto quello che è il percorso di supporto all'innovazione appunto per startup e imprese. L'obiettivo del mio intervento è quello di presentarvi innanzitutto alcune opportunità che effettivamente come Frio Innovazione all'interno anche di una serie di iniziative regionali ed europee mettiamo a disposizione, sicuramente per startup di vario tipo e anche per imprese in modo più generale. E poi andrò ad approfondire uno strumento, una misura a livello europeo che come è stato citato nei saluti da parte dell'assessore, tutta la nuova programmazione europea è sicuramente un filone molto importante da conoscere e sfruttare da parte dell'impresa. Alcune parole un po' su Frio Innovazione e anche alla luce un po' delle recenti trasformazioni che ci sono state, quindi Frio Innovazione si inserisce all'interno di un sistema regionale a supporto dell'innovazione e delle imprese. In questo senso anche il nostro intervento è ben collocato all'interno di questo ciclo di webinar dove ci sono altri attori di questo sistema dell'innovazione come il Polo Tecnologico Alto Adriatico di Pordenone piuttosto che la LEF o il COMET. E anche in questa nuova visione regionale del supporto all'innovazione, Frio Innovazione si sta collocando con una visione di specializzazione su alcune tematiche, quindi su alcuni in particolare temi, centri di eccellenza come vengono chiamati, che vogliono essere appunto a servizio tanto delle imprese ma anche delle pubbliche amministrazioni o di altri enti. In questo senso cito due degli ambiti che sono centrali in questa visione. Uno è tutto il tema dell'additive manufacturing e della fabbricazione digitale, quindi additive manufacturing intesa come stampa 3D, c'è un laboratorio a Udine che si occupa di questo, e inoltre in tema appunto di fabbricazione digitale c'è il Fab Lab di Maniago che è specializzato maggiormente su diverse tecnologie e anche sulla stampa 3D di polimeri. Quindi questa è un'iniziativa che copre anche sia l'ambito della provincia di Udine che quella di Pordenone e va a integrarsi anche con gli altri attori del territorio. L'altro tema che sta diventando appunto centrale per l'innovazione è quello della Smart Mountain, quindi tutta una serie di tecnologie e soluzioni, in particolare in modo legate alle aspetti digitali, che permettano di rilanciare l'economia e la competitività del settore dell'area montana. Quindi in questo caso parliamo di applicazioni IoT, di sistemi di guida autonoma, di tutte quelle che sono le tecnologie che possono permettere una migliore fruizione del territorio, dei boschi e quindi della filiera del legno, piuttosto che il tema della telemedicina e della teleassistenza e altre tematiche che vengono considerate in questo contesto. Il tema in particolare del centro di eccellenza sull'additive manufacturing si inserisce e si contestualizza all'interno di quello che sono definiti i living labs, quindi dei laboratori in cui le imprese, i soggetti del territorio possono entrare e che possono sfruttare secondo l'ottica del test before invest, quindi il fatto che ci siano dei laboratori che mettono a disposizione delle tecnologie che un singolo, una singola impresa, un privato, non riuscirebbe ad acquistare per gli elevati costi, ma che vengono messi a punto di disposizione di tutti i soggetti del territorio che siano interessati a conoscere le tecnologie e iniziare a utilizzarle. Al tema delle tecnologie si abbina naturalmente quello delle competenze, quindi il fatto di poter disporre all'interno di questi laboratori delle competenze tecnico-specialistiche molto approfondite e che permettono anche un orizzonte internazionale, quindi lo sviluppo anche di collaborazioni con i paesi vicini piuttosto che a livello europeo. E questo appunto come dicevo si inserisce poi in una logica di integrazione sempre più forte con gli altri attori del territorio per tutto quello che riguarda gli aspetti di innovazione e digitalizzazione, quindi appunto come citavo prima, il Polo Tecnologico, la LEF, il Comet, piuttosto che gli altri attori regionali che da tempo ormai operano su il tema dell'innovazione e della digitalizzazione. Addentrandoci un po' più sul tema anche di oggi, quindi il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, cito questa call che è attualmente aperta, come potete vedere appunto la scadenza è il 30 giugno ed è appunto sempre focalizzata sul tema dell'Additive Manufacturing, quindi questa iniziativa Additive Startup Italia che è proposta da Free Innovazione in collaborazione con AM Ventures, che è un fondo di venture capital sull'Additive Manufacturing e che punta a raccogliere e selezionare idee imprenditoriali e start-up innovative che appunto sviluppino delle soluzioni dei progetti nell'ambito delle tecnologie additive. Questa è un'opportunità appunto sicuramente molto interessante che permette appunto di, che andrà a selezionare sei idee entro metà luglio, con l'idea poi di andare a accompagnare queste idee verso un pitching event che si terrà a settembre e a seguito appunto i vincitori di questa competizione potranno anche partecipare all'RM Forum che si terrà appunto a settembre in Lombardia, quindi un evento a livello nazionale che è focalizzato sull'Additive Manufacturing. Quindi questa è un'opportunità concreta per chi appunto abbia un'idea imprenditoriale o una start-up e che sia focalizzata appunto sul tema dell'Additive Manufacturing. Un'altra iniziativa che cito in quanto appunto aperta in questo momento è più legata invece al tema della transizione digitale, Industria 4.0, quindi in questo caso si tratta sempre di una call, di un bando, in questo caso di Friuli Innovazione all'interno di un progetto europeo che va andrà a selezionare delle piccole e medie imprese del Friuli Vivenza Giulle interessate appunto ad avere un percorso di accompagnamento sul tema dell'Industria 4.0. Anche qui la scadenza è a breve, tra un mesetto, quindi il 15 luglio, quindi chi fosse interessato a approfondire questa opportunità e eventualmente a partecipare può trovare le informazioni anche sul nostro sito. Infine, sempre in questa panoramica di iniziative e di opportunità che ci sono sul territorio e che derivano per la maggior parte da fondi europei che appunto sono stati, che vengono sfruttati per dare servizio alle imprese. Cito questo evento che è in corso iniziato oggi e che si svilupperà ancora domani, dopo domani, su un'altra tematica totalmente diversa che è invece quello del settore delle imprese culturali creative. scusate, forse è saltato, ecco, la presentazione, quindi tre giorni di presentazione, di opportunità sul tema del settore culturale creativo e dell'impatto sociale, quindi anche qui imprese e piuttosto che start-up che siano interessate a capire come poter appunto sfruttare le opportunità a livello regionale, nazionale, europeo, di diverso tipo, quindi si parla di finanza agevolata, contributo in senso ampio, per appunto sviluppare le proprie idee in questo ambito. Questo voleva essere appunto una panoramica un po' su iniziative attuali che mette in campo frio di innovazione, ora invece mi concentro su delle opportunità a livello europeo, non citate prima, della programmazione 2021-2027, in questo caso andrò a presentare il programma Horizon Europe, in particolare una misura di questo programma, per appunto dare delle informazioni iniziali su quelle che possono essere effettivamente da qui al 2027 una serie di opportunità molto importanti e molto anche significative da un punto di vista di contributo. Horizon Europe è il nuovo programma europeo per il sostegno della ricerca e dell'innovazione e mette a disposizione oltre i 95 miliardi di euro appunto in questo periodo. Chiaramente il programma si inserisce su una serie di priorità che sono state definite a livello europeo anche nei recenti anni, quindi sicuramente tutto il tema del Green Deal, del digitale, piuttosto che altre tematiche anche più di carattere sociale ed economico. E infatti uno degli aspetti sicuramente da considerare nell'approccio a questo programma, così come ad altri programmi europei, è quello degli impatti che appunto l'Unione Europea si aspetta dai progetti che va a finanziare. In questo specifico caso Horizon Europe ha tre dimensioni principali, una quella scientifica e tecnologica, quindi come miglioramento delle basi scientifiche e tecnologiche dell'Unione Europea, c'è poi tutto il tema della dimensione economica, quindi la competitività europea anche a livello globale, e poi il tema sociale, quindi comunque le ricadute che i progetti e le innovazioni che vengono finanziate possano avere sulla vita di tutti i giorni e sulla componente sociale della comunità. Il programma è strutturato in questo modo, è un programma abbastanza complesso, con tre pilastri verticali, il primo molto legato al mondo della scienza e della ricerca, quindi il pillar 1 è legato in particolare al mondo universitario, appunto della ricerca in senso stretto. Il pillar 2 è legato, focalizzato su una serie di temi che riguardano la competitività dell'industria europea, quindi come vedete si va dalla salute fino all'industria, la digitalizzazione, gli aspetti del clima e così via. E poi c'è un terzo pilastro legato all'innovatività dell'Europa, in senso abbastanza ampio. In particolare, in questa presentazione andiamo a focalizzarci su questo European Innovation Council, che ha uno strumento dedicato alle start-up e alle piccole e medie imprese, e anche a chi vuole costituire un'impresa. Questo strumento è appunto l'AC Accelerator, a chi è rivolto? Parliamo innanzitutto di appunto start-up e piccole e medie imprese, quindi c'è un focus molto specifico su queste tipologie di soggetti, che abbiano dei progetti di alto impatto da un punto di vista innovativo, quindi parliamo di comunque innovazioni che possono avere un potenziale, non solo da un punto di vista scientifico e tecnologico, ma anche e soprattutto direi dal punto di vista di sviluppo dei mercati e competitività appunto delle imprese stesse. si basa comunque su delle tecnologie che devono essere particolarmente innovative e che devono essere già a un buon livello di sviluppo, quindi non parliamo di ricerca di base, ma di attività che permettano poi all'impresa di andare in tempi relativamente brevi sul mercato. e chiaramente idee che necessitino di un importante finanziamento da parte della componente pubblica, quindi che siano appunto troppo rischiose per solo degli investimenti da un punto di vista privato. Chi può partecipare? In questo caso appunto lo strumento è uno dei pochi strumenti in cui è consentita all'interno di Horizon Europe la partecipazione di soggetti singoli, quindi come vedete è possibile la partecipazione di singole e piccole e medie imprese secondo quella che è la definizione di piccola e medie imprese europea. In questo caso è possibile anche imprese un po' più grandi che sono queste small mid caps che sono appunto anche qui definita a livello europeo, ma l'altro aspetto importante è che è aperta la possibilità di partecipazione anche a persone che non hanno ancora costituito l'impresa ma che sono intenzionate a farla, quindi quelle che vengono chiamate appunto aspiranti imprenditori. Andando poi un po' più sul concreto di quelle che è l'opportunità che vengono offerte, c'è sia una componente di supporto in ambito di investimento, quindi di equity, quindi di contributi che entrano all'interno anche del capitale sociale della start-up o della costituente impresa, ma poi c'è poi anche la parte di contributi a fondo perduto che forse è quella che interessa di solito maggiormente, maggiormente e parliamo appunto di un massimo di contributo fino a 2 milioni e mezzo di euro con un tasso di rimborso appunto del 70%, quindi comunque parliamo di importi e percentuali molto interessanti per appunto progetti come indicato che vadano poi a qualche modo a completare il proprio sviluppo entro 24 mesi, quindi comunque tempi relativamente brevi. ulteriori elementi che favoriscono la partecipazione a questo strumento da parte di anche piccole imprese o micro imprese è il fatto di una presentazione in una doppia fase, quindi c'è prima una presentazione di una short proposal che non prevede delle scadenze, quindi si presenta una prima idea progettuale e in caso di approvazione di questa short proposal si va poi a presentare la full proposal, quindi con il progetto vero e proprio. Questa è la scadenza appunto per la full proposal, una fondamentalmente è domani, quindi appunto il 16 giugno, quella successiva al 6 ottobre, quindi chi fosse interessato può poi come dire prepararsi alla scadenza del 2021. Chiaramente poi nel 2022 ci saranno ulteriori scadenze, ulteriori appunto possibilità di partecipare a questo strumento. Dicevo la partecipazione facilitata nella primo step, quindi in quello che è lo stage one, qui sono indicata effettivamente quella che è la modulistica che viene richiesta, quindi molto semplice, un questionario iniziale sull'idea, una presentazione di 10 slide, quindi una sorta di pitch dell'idea e un vero e proprio video pitch di 3 minuti che presenta l'innovazione al team, quindi uno strumento veramente molto snello da questo punto di vista. In tutto questo contesto, considerato che comunque si tratta di nuove opportunità e di un programma appunto che è stato avviato da poco, c'è la possibilità di avere chiaramente un supporto a livello nazionale e regionale su queste misure, quindi vi cito l'APRE, che è l'Agenzia per la Provenzione della Ricerca Europea, che appunto ha un ente con sede a Roma e che ha l'obiettivo di supportare tutti i soggetti a livello nazionale che sono interessati a queste tematiche e il loro sito ha appunto tutta una serie di informazioni di dettaglio su Horizon Europe e sui servizi che vengono offerti, quindi per chi fosse interessato può sicuramente andare a visitare il sito di APRE e a livello regionale appunto c'è un'ulteriore possibilità con degli sportelli, uno di questi è ospitato da Friuli Innovazione, appunto a Udine, mentre l'altro è a Trieste, penso a Area Science Park, quindi l'obiettivo di questi sportelli è quello di dare una prima informazione, un primo supporto per chi volesse in qualche modo iniziare a conoscere e a capire se queste opportunità sono adatte alla propria impresa e ai propri progetti. Con questo io concludo appunto un po' questa carrellata di opportunità e iniziative, chiaramente sono a disposizione più tardi o anche nei prossimi giorni per ulteriori approfondimenti e passo la parola al moderatore. Bene, grazie dottor Gronardini. Ricordo che se ci sono domande le possiamo farle direttamente al relatore oppure le potete postare nel chat e poi sarà cura nostra presentarle alla fine al relatore o ai relatori. Bene, in questo momento nella chat non vedo domande specifiche, direi di passare direttamente al relatore successivo, quindi Stefano, prego per la tua presentazione. Grazie, grazie di nuovo dell'opportunità di essere presente a questi webinar. Procedo anch'io con la condivisione della presentazione dello schermo in modo da entrare in quello che era l'argomento relativo alle agevolazioni sull'imprenditoria giovanile e femminile, quindi entrando proprio nella tematica di dettagli. Abbiamo cercato di fare una presentazione agile, molto veloce, tra l'altro con del materiale che è anche reperibile sul sito di Invitalia, che in questo momento è il principale depositario delle agevolazioni in questo tema, in modo che sia facilmente fruibile a tutti quanti. Le agevolazioni in questa tematica principalmente sono tre, le linee di azioni sono tre attualmente aperte. Il primo viene chiamato self-employment, con questo gioco di parole sul self-employment inglese, ed è una agevolazione che si rivolge alle persone, ai giovani, che in questo momento non sono né lavorative, quindi non sono né impiegate, né nella fase di formazione, né tipo education, né professionale. Oltre a dei beneficiari di più giovane età si rivolge anche a tutte le donne inattive piuttosto che ai disoccupati di lungo periodo. È un'azione aperta da febbraio del 2021 e si basa su delle domande a sportello, quindi è un fondo rotativo dove sulla base della disponibilità dei fondi residui e dei fondi che vengono riassegnati vengono esplettate, quindi vengono soddisfatte, le richieste effettuate. Questo per inquadrare il quadro generale, come vedete, sono azioni di più piccolo taglio, stiamo parlando di tagli dedicati non come Horizon Europe, che ha già un ambito più ampio, sono dedicati ad agevolare le micro iniziative che poi possono chiaramente prendere piede e allargare lo spettro d'azione. Troviamo un finanziamento quindi al 100%, quindi è un'azione che va a finanziare l'iniziativa per progetti di investimento che vanno tra i 5.000 e i 50.000 euro. Ora, devo dire che molto spesso noi che seguiamo un po' in tutta Italia aziende di questo genere, proprio avere i primi fondi per poter partire sono uno dei problemi più grossi, quindi proprio la prima benzina per attivare l'iniziativa. I contributi in conto capitale che molto spesso vengono ricercati, ovviamente hanno una valentità notevole, però non sempre sono lo strumento corretto per questa fase, proprio per il momento dove l'iniziativa deve partire. Da un lato perché chiaramente il contributo in conto capitale essendo uno strumento importante di politica economica e di politica industriale viene indirizzato dai vari legislatori su linee, su tipologie di attività prescelte per avere un forte impatto territoriale. Altre volte però esistono delle iniziative molto più piccole che in qualche modo possono dare prospettiva, ma che non rientrano in questo ambito. In secondo luogo, i contributi in conto capitale normalmente funzionano dove io prima devo effettuare il progetto, poi lo vado a rendicontare e infine ricevo il contributo. È vero che negli anni sono stati molto spinti, quindi si è lavorato molto per la concessione di anticipi, dove però è sempre normalmente richiesta una garanzia. Quindi manca proprio il primo step. Abbiamo gli strumenti che arrivano negli step successivi, ma dove trovo io i primi denari proprio per fare il primo passo. Qui si cerca di rispondere, Invitaglia cerca di rispondere con questa iniziativa a questa domanda. Quindi è un finanziamento, sono soldi che noi dovremmo tornare, però sono soldi a tasso zero, finanziano il 100% delle nostre iniziativa, sono distribuiti poi su queste tre tipologie, da microcredito, microcredito esteso, piccoli prestiti, ma sono suddivisioni interni dell'azione, con la logica che questi soldi andranno restituiti in sette anni con rate che partono 12 mesi dall'erogazione del prestito. Quindi è un ritorno rateale che inizia un anno da quando, io inizio a restituire i soldi, un anno dopo da quando li ho ricevuti. L'obiezione che molto spesso ci viene portata dai giovani, che da un lato è molto condivisibile e comprensibile. È d'accordo, però se le cose vanno male, come faccio io a restituire i denari che mi vengono concessi? Ecco, dall'altro lato, la risposta che viene fatta da chi deve andare a investire questi denari su un'iniziativa, di solito è, se non sei tu a crederci, come facciamo a crederci noi? Quindi se non sei tu che sei l'imprenditore, che ti proponi come imprenditore in prima persona, come facciamo a crederci noi? Quindi attenzione che lo strumento del finanziamento in questa fase è uno strumento molto importante per evitare che l'iniziativa resti solamente sulla carta o nel cassetto e non riesca mai a prendere vita. Cosa va a finanziare questa iniziativa? Beh, guardate, una cosa interessante è che va a finanziare tutte quante le iniziative in tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi, commercio, anche in forma di franchising. Quindi è un'iniziativa molto ampia, tutti i settori. Per chi avrà la curiosità e l'interesse di vedere il prossimo webinar dove ci concentreremo di più con la partecipazione dell'Agenzia Svilluto Impresa del Friuli Venezia Giulia, vedrete che gli strumenti regionali si concentreranno sulle cosiddette S3, cioè determinati ambiti, determinati filiere. Questo invece va a agevolare tutti quanti i settori in maniera trasversale, tranne quelli della pesca, dell'acquacultura, della produzione primaria in agricoltura che sono dei settori esclusi proprio per un regolamento europeo per non rischiare di andare a falsare il mercato europeo. Tutti gli altri, commercio, artigianato, servizi e quant'altro, sono ammissibili. Cosa viene agevolato? Si va ad agevolare strumenti e attrezzature macchinari, eventuali hardware e software, opere murarie con un massimo del 10% del totale e poi tutte le spese di gestione, quali locazioni dei beni immobili, cani di leasing, utenze, servizi informatici e via via dicendo. Ecco, un altro aspetto importante di questo tipologie di agevolazioni sono agevolazioni che vanno a finanziare anche la nostra attività corrente, mentre normalmente le agevolazioni più evolute, quelle che proprio da cui nasce il termine di incentivo, vanno a incentivare la spesa straordinaria, che vuol dire un progetto che io normalmente non faccio, esempio, la ricerca e sviluppo, quindi vado ad agevolare qualcosa che va al diverso dal mio business, piuttosto che l'ipero superammortamento che sono stati trasformati in crediti di imposta che vanno invece ad agevolarmi l'acquisto di macchinari. In questo caso, invece, vengono anche ricomprese le spese ordinarie che in qualche modo normalmente sono escluse. Quindi, è come se mi stessero dicendo guarda che quello che tu normalmente per avviare un'impresa lo spenderesti, avresti un'uscita di cassa giorno per giorno, in realtà noi ti permettiamo di diluirlo in sette anni. È chiaro, si può presentare altra cosa interessante, si può presentare anche la domanda come persona fisica ed eventualmente andare a costituire la società solamente nel caso in cui la domanda venga approvata. Ovviamente, chi ottiene il finanziamento deve impegnarsi a costituire la società ed individuare la sede operativa entro tre mesi dalla concessione del finanziamento e deve completare il programma di investimento entro 18 mesi dalla stipula del contratto stesso. Adesso, quindi, questa era l'iniziativa che proprio va a promuovere una nuova forma di impiego, quindi una volta veniva chiamata autoimprenditorialità. ho visto una domanda che mi diceva l'ho visto direttamente nella chat se la persona è già dipendente è una domanda di dettaglio dovremmo verificare tutta quanta la normativa però teoricamente dovrebbe essere possibile da verificare per meglio per più sicurezza. per quanto riguarda le garanzie invece non dovrebbero essere richieste le garanzie aggiuntive perché è il fondo rotativo che effettua che garantisce l'importo erogato. L'altra impresa che si chiama oltre nuove imprese tasso zero nuova imprese tasso zero è una via di mezzo quindi cresciamo un po' si rivolge a delle start up quindi sono imprese che sono già costituite o che verranno costituite però quindi comprende sia la possibilità di presentazione della domanda prima di costituire l'impresa sia per le imprese già costituite anche in questo caso vedete però che queste imprese devono avere una caratteristica molto importante quindi un incentivo sempre rivolto a giovani e donne che vogliono diventare imprenditori e imprenditrici le agevolazioni anche qua valgono in tutta Italia aspetto non da trascurare perché le agevolazioni invece di natura relativa ai fondi diretti assumono una valenza e una caratterizzazione molto forte a livello regionale e c'è un mix in questo caso tra finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto le spese ammissibili vedete che cresce si arriva fino ai 3 milioni di euro e si può arrivare a una copertura fino al 90% delle spese totali ammissibili il processo valutativo è diviso in due fasi anche questo aspetto molto positivo perché avviene una prima fase di valutazione di una domanda descrittiva nel caso in cui si venga messa alla seconda fase viene richiesto un approfondimento tecnico economico finanziario e il piano economico finanziario vero e trovo cosa vuol dire che caratteristiche devono avere queste aziende beh a livello di compagine sociale il 51% devono essere giovani sotto i 35 anni oppure donne di tutta l'età si divide in due dopo quindi l'azione prende due rami per le imprese costituite da meno di tre anni oppure per le imprese costituite da più di tre anni ma meno di cinque quindi le imprese costituite da più di cinque anni sono esclose da queste iniziative si può presentare la domanda anche come persona fisica con impegno a costituire la società nel caso in cui la domanda venisse approvata le imprese possono richiedere il finanziamento per realizzare nuove iniziative o ampliare diversificare o trasformare le attività esistenti la copertura delle spese ammissibili può arrivare al 90% della spesa complessiva da rimborsare in dieci anni anche in questo caso non ci sono garanzie per finanziamenti inferiori ai 250 mila euro invece c'è una garanzia sotto forma di privilegio speciale per i finanziamenti superiori a 250 mila e sempre richiesta all'ipoteca nel caso in cui ci siano degli acquisti di immobile i piani di impresa devono essere avviati dopo la presentazione della domanda e devono concludersi entro 24 mesi dalla stipula del contratto ecco vedete che adesso ci dividiamo siamo sulle imprese fino a tre anni iniziamo a entrare nel dettaglio dell'azione quindi le imprese costituite da non più di tre anni possono presentare progetti di investimento fino a un milione e mezzo per realizzare iniziative nuove o sviluppare attività esistenti in tutti i settori anche in questo caso è un'iniziativa trasversale copertura abbiamo detto 90% in dieci anni però attenzione che si può essere un mix di finanziamento tra il passo zero e un contributo a fondo perduto che non può superare il limite del 20% della spesa ammissibile quindi vuoto per pieno il beneficio massimo può essere un 20% a contributo a fondo perduto è relativo 70% a tasso tasso zero quindi finanziamento tasso zero aspetto importante nell'ambito della agevolazione io posso andare ad finanziare anche il cosiddetto capitale circolante quindi eventuali crediti merci in magazzino e via dicendo quindi è un ulteriore ampliamento rispetto a prima perché non stiamo parlando solamente di spese correnti non stiamo parlando solamente di investimenti quindi supponiamo mentre io posso acquisire un immobile posso attrezzarlo dopodiché ho tutti i costi relativi alle utilities all'affitto via dicendo ma se ho bisogno ad esempio di fare un po' di magazzino anche questo può entrare nel finanziamento quindi viene finanziato dall'azione il contributo chiaramente può arrivare al massimo del 20% delle spese di investimento qua trovate brevemente un esempio delle spese ammissibili vedete che poi qualche spesa ovviamente ha un limite massimo di incidenza sul totale dell'investimento le imprese invece che sono costituite tra i 3 e i 5 anni quindi da più di 3 anni ma meno di 5 hanno un ambito più alto possono andare a arrivare fino ai 3 milioni di euro come spesa agevolabile però il fondo perduto non può superare in questo caso il 15% della spesa complessiva anche in questo caso c'è una leggera differenza rispetto a prima perché vedete che l'acquisto di immobili per queste aziende è ammissibile solamente nel settore turistico le altre spese sono più o meno le stesse poi va visto il piano nel dettaglio perché queste chiaramente sono solo indicazioni di massima l'ultima iniziativa tutte e due queste iniziative sono ancora aperte quelle che abbiamo visto fino adesso invece c'è la nuova iniziativa che aprirà a breve che è lo smart money che si rivolge sempre a delle start up però in questo caso start up innovative e rete di incubatori e via dicendo perché in qualche modo si cerca di far incrociare meglio le imprese e le start up innovative con gli incubatori che erogano servizi a sostegno delle stesse un esempio l'abbiamo visto prima con Friuli Innovazione ma potrebbero essere anche gli altri attori del sistema di cui ha parlato il dottor Benaldini in questo caso quindi viene dato un contributo a fondo perduto per sostenere l'acquisto dei servizi forniti dagli enti abilitati come incubatori acceleratori organismi di ricerca ed innovation hub possono presentare le domande di agevolazione le start up innovative che vi ricordo è una lista un'iscrizione quindi particolare della camera di commercio dove bisogna richiedere di accedere quindi per essere all'interno bisogna avere determinati requisiti start up innovative costituite da meno di 24 mesi proprio come avevo appena detto iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese sede in Italia piccole dimensioni che devono trovarsi in una delle seguenti fasi quindi o di avviamento dell'attività sperimentazione dell'impresa o nella fase di test di mercato lo vedremo anche successivamente anche qui possono presentare in domanda anche le persone fisiche ci tratta anche qui di due step quindi primo step o contributi a fondo perduto per l'acquisto di servizi della rete di incubatori aspetto aspetti importanti da tenere che saranno importanti da tenere presente nella presentazione di questa domanda primo step la soluzione innovativa deve essere scalabile cioè io devo far vedere già in questo momento che la mia soluzione potrà essere potrà crescere come modello di business nel futuro devo far vedere che la prospettiva di crescita c'è viceversa devo dimostrare anche di avere le competenze tecniche manageriali all'interno del mio team o della compagine sociale oppure devo sapere cosa mi manca e le potrò andare a reperire sul mercato ma già adesso devo essere in grado di verificare di dire quali sono quelle mancanti inoltre dobbiamo essere vicino a una fase di mercato non deve essere qualcosa di troppo lontano dal mercato stesso servizi ammissibili sono tutti quanti vanno dalla consulenza organizzativa fino alla proprietà intellettuale fino al crowdfunding ma sono tutti quanti servizi tipici che vengono erogati dagli incubatori di cui abbiamo detto tra parentesi può essere anche ammissibile l'affitto dello spazio fisico e servizi accessori se sono direttamente collegati al progetto e alle agevolazioni sopra ai servizi ammissibili sopra indicati le spese devono essere sempre sostenute dopo la presentazione della domanda e nei 18 mesi successivi alla presentazione l'agevolazione prevede un incontro un contributo a fondo perduto per un massimo di 10.000 euro fino all'80% delle spese ammissibili è un contributo de minimis per cui adesso non entro nel dettaglio ma in qualche modo è una tipologia una categoria delle agevolazioni la seconda fase invece cosa dice bene dopo che la startup ha beneficiato dei primi servizi di consulenza se adesso la startup è in grado di trovare degli investitori qualificati da parte di enti abilitati piuttosto che business angel e via dicendo io vado praticamente a raddoppiare il contributo in conto capitale non il contributo in conto scusatemi l'apporto di equity che ci mette l'investitore quindi a fronte di un determinato se l'investitore ci mette 20.000 euro 20.000 euro vengono aggiunti come contributo da parte dell'azione smart money il massimo dell'investimento però che smart money può fare quindi il contributo concesso da parte di smart money per potenziare l'investimento equity è di 30.000 euro le domande questo tipo di agevolazione aprirà a partire dal 24 giugno e a breve dovremmo avere la disponibilità dei facsimili di domanda e le relative modalità di presentazione io con questo ho terminato disattivo la condivisione e ritorno la parola ad Adriano Savuidi bene grazie Stefano di nuovo se ci sono domande le potete inserire inserire nella chat e poi provvederemo a passarle ai ai relatori adesso direi di introdurre l'ingegnere Maria Fantinelle di Ematec e chiedendole se ci dà una breve presentazione personale una breve presentazione della della sua azienda e dopo inizieremo magari con alcune domande mirate prego buonasera a tutti sono Fantinelle Maria ingegnere elettronico e dal 2015 titolare di un'impresa di servizi di ingegneria elettronica siamo tre soci e io le quarte maggioritarie e praticamente noi sviluppiamo tutto ciò che ha a che fare con schede elettroniche telecomandi motori per cancelli elettrici tapparelle cose del genere sostanzialmente per farvi capire oppure sensori di allarme sensoristica cose del genere siamo insediati al polo tecnologico alto adriatico dal 2015 qui ci troviamo bene perché il polo permette di conoscere tante realtà crea una bella rete e quindi ci dà la possibilità anche di poter diciamo ampliare le nostre conoscenze farci conoscere nel mercato non è stato sempre facile perché non lo è stato però siamo riusciti anche ad avere delle sovvenzioni pubbliche abbiamo avuto vinto dei bandi per l'imprenditoria femminile ben due nel 2015 appena abbiamo aperto nel 2017 erano a fondo perduto con il contributo dei minimis come è stato detto prima più abbiamo anche preso un contributo perché siamo un'azienda artigiana sostanzialmente noi lavoriamo fisicamente sulle cose che produciamo e quindi siamo riusciti ad avere anche il contributo per le aziende artigiane di prima entro i tre anni quello che diceva prima sostanzialmente e questo ci ha permesso insomma di di essere ancora qui anche vista la crisi attuale che c'è un 2020 non proprio dei migliori confidiamo in un 2021 un po' meglio perché comunque insomma questo è questa è un po' la mia esperienza e sì nel senso che non è facile però insomma se si conoscono le linee di aiuto che ci sono possono essere regionali o anche europee anche bandi finanziati per magari ricerca e sviluppo questo insomma aiuta può aiutare delle realtà nascenti non ho altro da dire bene grazie della della sua presentazione lei ha accennato così solo un suggerimento ha accennato alle motorizzazioni per i cancelli elettrici sono reduce mezz'ora fa nel cambio della scheda che si è fulminata per l'ennesima volta se rinunciste a sviluppare una scheda insensibile dai fulmini le sovrattenzioni eccetera ve ne copro una serie insolita lo terrò a mente ecco grazie so che la dottoressa Ullian aveva alcune domande per lei e poi se ci sono altre domande ovviamente dai presenti sia per lei che per i relatori andiamo avanti con una con un po' di discussione prego Anna io volevo chiedere quali aspetti hai trovato più impegnativi da affrontare come donne in questo settore che è di solito tipicamente un settore maschile ci sono stati ci sono sempre costantemente ma diciamo che il problema maggiore è che il settore è terribilmente tecnico sono un ingegnere elettronico e i problemi ci sono da quando mi sono iscritta all'università ben 19 anni fa perché è un mondo maschile eravamo 210 iscritti in aula con solo 5 donne quindi insomma diciamo che è così niente bisogna un po' abituare le persone che anche le donne possono parlare di cose tecniche ho la fortuna di avere una buona capacità magari dialettica e quindi questo aiuta sicuramente aiuta un po' saper capire che persona sia davanti un po' in tutti i settori questo comunque cercare insomma di dimostrare con i fatti che si è competenti mentre magari a volte per gli uomini è più semplice perché è l'ingegnere quindi sa per le donne è l'ingegnere verifichiamo se sa però insomma fatto questo uno sopravvive diciamo che ce la può fare bene e oltre al polo di cui lei ha già ha già parlato prima ci sono stati anche altri attori che hanno supportato il suo percorso non so associazioni categoria oppure ci siamo iscritti in Alcata sì noi ci siamo iscritti in Alcata come associazione ci ha aiutato anche l'anno scorso per poter accedere ad avere delle agevolazioni per dei finanziamenti e questo ci ha ovviamente aiutato perché sì poi è vero che uno deve crederci perché che sennò poi non si trovano i finanziamenti però è anche vero che uno poi deve presentare delle garanzie e alcune volte almeno queste queste associazioni così danno una mano aiutano magari realtà piccole come la nostra perché noi siamo in quattro che comunque hanno bisogno magari di avere della liquidità in alcuni momenti e quindi in questo modo insomma siamo stati aiutati ok e quali sono i suggerimenti se si sente di dare questi suggerimenti ad eventualmente giovani alle giovani interessate ad affrontare un percorso anche di studi STEM oddio non so che bisogna avere la passione ci vuole proprio quella io ero appassionata io smontavo i videoregistratori quando all'epoca c'erano ancora prima di andare all'università perché volevo sapere come erano fatte le cose dentro ci vuole un po' di capacità di destreggiarsi però io insomma lo consiglierei se uno lo fa con passione che lo faccia perché insomma comunque merita è un mettersi alla prova io già dall'università volevo aprire qualcosa di mio poi ho fatto la dipendente in aziende private sempre del settore per tanti anni e poi con una crisi che c'è stata nell'azienda dove lavoravo con degli amici universitari abbiamo detto facciamo questa pazzia perché poi tutti chiamano questa cosa una pazzia aprire una società magari non più giovanissimi però insomma è andata diciamo che è andata bene insomma noi siamo ancora qui lavoriamo nel senso che comunque ci sono sempre sfide e difficoltà però insomma se uno ha la voglia l'idea magari ha un'idea qualcosa che vuole realizzare può provarci c'è modo di farlo ecco bene ultima domanda e poi la lascio secondo lei il genere maschile e femminile è veramente importante in azienda oppure no allora non è che è vero non so se sia veramente importante o no siamo completamente diversi come approccio alle difficoltà le problematiche è vero che magari a volte essere donna può essere un po' svantaggiante per alcune cose soprattutto se sia famiglia perché magari squilla sempre il telefono se ci sono i figli una cosa l'altra la scuola così però poi se uno ha le capacità e ha le competenze che sia uomo o donna non c'entra niente secondo me per me poi questa è la mia opinione ovviamente ingegnere posso farle una domanda lei ha detto una cosa secondo me molto importante lei aveva la curiosità di vedere come le cose sono fatte dentro come ha detto ecco questa è una è una una cosa piuttosto insolita nelle donne in particolare nelle ragazze secondo lei ci sarebbe il modo per incentivare questa curiosità magari una ragazza forse più portata non so a leggere un libro ma non tanto a mettersi lì cacciavite e pinza ad aprire il videoregistratore magari quello che in cantina ecco non il televisore che c'è in soggiorno anche perché aprire il televisore che c'è in soggiorno adesso non è più così semplice come una volta però non so rispondere alla sua domanda perché io sono sempre stata così con il chiodo e il martello e con i libri esattamente entrambe le cose e sono sempre stata portata per i numeri per tutto ciò che aveva a che fare con i calcoli i conteggi le equazioni e e mi affascinava vedere di più capire di più però non so forse con dei corsi con delle cose che facciano mettere le mani su quello che c'è e non tanto la teoria solo la teoria perché noi qui in laboratorio abbiamo le stazioni saldanti e io saldo i componenti elettronici a volte in seria difficoltà visto il calo della vista perché ormai i componenti elettronici sono sempre più piccoli però ma lo faccio con piacere volentieri perché perché mi piace sì trovo che anche fare qualcosa di manuale sia stimolante una domanda da biologo io sono un biologo e quindi vedo vedo anche l'aspetto del DNA questa sua diciamo tendenza ad analizzare le cose è unica nella sua famiglia oppure c'è anche non so la madre la noma eccetera che smontavano le cose o che erano nessuno mio padre faceva l'imprenditore ma era all'epoca un trasportatore quindi aveva dei camion e stava costantemente sugli autoarticolati a guidarli mia madre è una casalinga in famiglia nessun altro ha preso un settore del genere abbiamo magari qualche architetto adesso dei cugini ma nessuno che abbia la passione per l'ingegneria e i numeri è venuta così quindi una mutazione favorevole in questo senso spero di passarla ai miei figli visto che ho due maschi magari ottimo sto vedendo che ci sono alcuni commenti c'era un commento Adriano sulla chat stereotipi che arrivano dall'infanzia regaliamo più giochi attivi alle bambine basta bambole più meccano cacciavite lego sono d'accordo con lei bene effettivamente per approcciare i percorsi STEM effettivamente credo che tutto nasca sia dalla diciamo dalla passione ma soprattutto dalla curiosità iniziale di andare a vedere di andare a vedere le cose molto probabilmente questo è una cosa che viene poco stimolata nei confronti delle ragazze purtroppo forse è vero ci sono questi stereotipi le bambine giocano con le bambole però non è sempre vero insomma non è sempre detto che sia così no certo bene grazie grazie a voi siamo giunti verso la disponibilità ottimo allora non vedo altre domande per il momento noi comunque carichiamo questi i video di questi webinar comunque sul canale youtube del comune a cadenza diciamo bisettimanale quindi lo troverete diciamo o se qualcuno non ha potuto diciamo collegarsi in questo orario noi lo renderemo disponibile diciamo due giorni i due giorni successivi nei due giorni successivi come comunicazione di servizio ecco bene direi che se non c'è altro possiamo concludere qui la nostra la nostra chiacchierata grazie grazie ancora a tutti i partecipanti arrivederci alla prossima giovedì pomeriggio giovedì sì giovedì arrivederci Anna ricordati di chiudere la registrazione arrivederci grazie grazie a tutti salve buona serata grazie buona serata arrivederci ok eccoci purtroppo non riesco non so perché in questo momento non si chiude scusate un secondo non si chiude la registrazione forse riesco a farlo io ora si registrerà la conferenza avete rieceso grazie a tutti